ciao 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 come stai? spero tu stia bene io sono che 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 allora in questo video come avrete visto andrò a mostrarvi quello che ho nella mia libreria perchè in molti me l'avete richiesto ed eccola qui dietro di me quindi per tutti i curiosi curiosoni o curiosone ora la vostra curiosità verrà saziata allora premetto perchè io faccio sempre le premesse per chi mi conosce faccio sempre premesse prima dei miei video comunque premetto che ancora devo riempirla un infarto premetto che ancora devo riempirla è praticamente vuota e quindi aggiungerò altre cose però quello che vedrete oggi è quello che c'è per adesso giustamente allora da dove iniziamo? iniziamo iniziamo da non so se riuscirò a farvela vedere tutta però proviamoci iniziamo da qui tadaaa allora allora questo è ovviamente un peluche di Mario del videogioco Mario Bros è Mario dai chi è che non ha giocato a Mario a Super Mario Bros almeno una volta nella vita allora questo piccolo pelucino me l'ha regalato in realtà il mio ex però non è questo quello che importa però e quindi ce l'ho ormai da quando avevo 16 anni ed è molto carino che poi la cosa buffa lo sapete qual è? è che io preferisco Luigi a Mario in realtà Luigi è il mio preferito però non fa niente mi sembra che me lo compro da GameStop come cavolo si chiama? anche il negozio e si non c'è troppa storia dietro che suono strano c'è venite conto che Mario è diventato un bravo ASMR artist c'è solo solo col suo naso gli è suoi fare un bellissimo ASMR wow wow non c'è non c'è non c'è no 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 io sono sconvolta comunque è questo è il mio primo peluche Mario cioè il primo che vi voglio mostrare poi vabbè qui non ve le mostro però qui ho alcune alcune foto fatte con la polaroid che mi ha regalato il mio ragazzo ho alcune foto con il mio ragazzo ho alcune foto con amici e lui con foto di amici suo insomma cose così io sto sempre calda sento sempre calda non so perché ma poi io ho questo quaternetto della Death Note che non è vero non è intendo non è l'originale affatto è praticamente un'agendina che era non mi ricordo più di che colore fosse questo è un lavoro che abbiamo fatto io e mio fratello anzi in realtà più mio fratello che io quindi era un'agendina con completamente un altro colore però l'abbiamo colorato tutto con l'uniposca se non è rosso infatti così vede si vede la striscia e poi mio fratello con il bianchetto oppure con l'uniposca bianco non mi ricordo più no con l'uniposca bianco e ha scritto la scritta Death Note ma non è geniale diciamo che questa nascita di questo giornaletto proviene dal mio video dove faccio il roleplay di Elle in caso poi ve lo metto qui sopra se non l'avete ancora visto e mi fruggeva un un diario di Death Note che io non possedevo e anziché comprerlo su Amazon perché volevo non volevo aspettare diciamo ero impaziente pigra di aspettare mi serviva subito per fare il video allora l'ho accomodato e l'ho fatto io diciamo che sotto le mie istruzioni ma l'ha fatto mio fratello ed è fatto bene perché sembra proprio l'originale non trovate? che ne pensate? in caso scrivetelo qui sotto nei commenti possiamo scrivere? qui abbiamo la Polaroid della Instax Fujifilm è giapponese un marchio giapponese anzi ancora non ne ho fatte tante ho ancora tante tante pellicole tanti film non so come si chiama ma non ne ho fatte così tante ancora di foto questa me l'ha comprata il mio fidanzato per il mio compleanno mi sembra i miei 21-22 anni sono fatta vecchio questa è una borraccia di Bushin non è adorabile anche questa madre che era del mio fidanzato io amo Bushin infatti ho due peluche questa è una maglia dove mangio la pizza una maglietta questa è troppo carina per essere utilizzata quindi la lascio appunto lì in libreria come come esposizione che mi ero dimenticata di questa? beh questa è semplicemente una pianta finta presa da Ikea Ikea è veramente delle belle piante e mi piace perché è bianca, la libri è nera e contrasta benissimo poi qui ho Sailor Saturn che le manca tra l'altro un braccio non metto a fuoco vabbè sì, volevo anche Sailor Jupiter perché lei è la mia preferita diciamo lei è la mia seconda preferita però non c'era, mi sembra che era terminata e l'ho presa a un Comic Con delle mie parti e lì c'è la scatolina, ve la faccio vedere vedete c'è anche Cibiusa Sailor Moon, Sailor Uranus, Sailor Neptune purtroppo lo metto a fuoco, troppo bene però vabbè poi qui, tada, volevo arrivare qua allora questo è il nuovo arrivato l'ho comprato veramente da pochissimo in occasione è il mio anniversario mi fidanzato era da una vita che voleva un peruso di l'acqua l'ore anche di Gudetama e di Cinema Roll mi sembra che si chiami così un po' un bamburin insomma tantissimi personaggi della Sanrio è carinissimo perché tiene in mano questa fragolina mi sa che dovrei togliere le etichette che dite boh, sono indecisa ti raccoma, ti raccoma, ti raccoma per adesso l'ho coricato ora poi molti di voi hanno notato che ho il romanzo di Your Name oltre ad averlo visto al cinema ho deciso di dopo che l'avevo visto al cinema e mi era piaciuto tanto ho deciso di comprare il romanzo di Makoto Shinkai se non lo conoscete vi consiglio di vedere anche il giardino delle parole e il My Dream With You che sono i miei tre preferiti che sono i miei tre preferiti che si sono i miei tre preferiti poi, questo è un altro peposcino piccolino che mi ha regalato mio fratello quando è stato a Malta infatti c'è scritto I love Malta a dire un rosetto che carino qui ho il bussin piccolo di cui vi parlavo è morbidissimo poi ne ho pochi per quelli che vorrei in realtà ne vorrei molti di più lovey 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 fate 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 questo mi ha regalato mia sorella lì c'è il bushing grande ma mi sembra che l'avevo fatto vedere in qualche altro video vabbè mi sa che non riuscirò a mostrare tutto però perché ci vorrebbe molto più tempo però siccome a voi interessano i manga secondo me vi faccio vedere alcuni manga che ho da premettere che dietro di me c'è un quadro di un gazzo di Berserk con l'armatura del Berserker e già alcuni l'avevano riconosciuto poi accanto a Berserk un po' più in alto c'è L L di Death Note ovviamente il mio personaggio preferito e poi questo qui è Demon Slayer Kimetsu no Yaiba no Yaiba no Yaiba che non ho tutta la collezione però piano piano li sto collezionando anzi in realtà questa li sta collezionando mia fidanzata poi ho alcuni fumetti di Berserk però sempre niente del mio fidanzato diciamo che sta collezionando lui che li ha praticamente cioè sono fumetti antichi una versione antica guardate come sono belli i disegni che darmiura questo qui è il prezzo di una vita che è completo in tre volumi uno, due, tre e la storia è stata ideata da Tsugaru Miyagi e l'arte quindi è stato illustrato da Shoichi Taguchi è molto bello penso che sia uno slice of life come si dica se hai in qualcosa del genere molto bello I sold my life for 10.000 yen per year collection box io non sono troppo brava a riassumere la trama ho paura che faccio qualche spoiler quindi in caso scrivo qualche descrizione della trama di questo allora ho dovuto aprire le finestre perché stavo incominciando a sudare troppo e ho anche legato i capelli quindi se sentirete strani rumori o rumori di magari di uccellini mi dispiace magari gli uccellini andano a stitio però se si sentono altri rumori esterni mi dispiace fermamente ma io non posso morire di caldo vabbè comunque allora le altre cose che vi volevo fare un'altra cosa che vi volevo farvi vedere è questa bellissima questa bellissima tracolla che ho preso ormai tantissimi anni fa forse qualche sei anni fa cinque in realtà l'ho usata pure poco però rappresenta una scena di Totoro che io adoro il mio cino Totoro nello studio Ghibli però con i personaggi di Adventure Time Adventure Time questo sarebbe Totoro questo è la sorellina più grande sarebbe e questa è la famosa scena della della pioggia si apre da qui si apre da qui non lo faccio perché sennò fa molto rumore poi ha una tasca qui con la cerniera poi ha il porta bevanda tipo il porta acqua qui questa è la prima che ho comprato la prima tracolla che comprai ed è praticamente oltre ad essere dannatamente rovinata come potete notare qui è di L di Death Note l'è fatto più piccolino più piccino Death Note come sonzo invece ho questo qui come dopo la pioggia che mi è piaciuto che mi è piaciuto di Jun Mayuzuki allora vi leggo la trama Akira Tachibana ha 17 anni e frequenta il secondo anno di liceo restia a mostrare al prossimo le proprie emozioni è segretamente innamorata di Masami Kondo 45 anni direttore del ristorante presso il quale lavora part time una tenera storia d'amore in cui si intrecciano le vite di lei ferma il crocevia dell'adolescenza e di lui già proiettato verso fatidica mezza età lui è Masami Kondo lei è bellissima e questa è la collezione completa ovvero 10 columi non è nemmeno tanto grande ho un altro sojo orange che sono 6 volumi un po' sottovalutato questo anime sojo diciamo un po' più per adulti perché comunque le le scene gli eventi succedono alcuni nel presente e alcuni nel futuro però dicevo è stato un po' non è andato troppo forte qui in Italia infatti non è troppo conosciuto ma anche come dopo la pioggia non è troppo conosciuto orange vabbè faccio prima a leggervi la trama durante la primavera della della seconda liceo la sedicenne nao riceve una strana lettera mittente elaste imittente la se stessa di 10 anni nel futuro e il contenuto è una spiazzante richiesta ti prego di non avere i miei stessi rimpianti raccontando profilo per segno cosa sarebbe successo da lì in poi la lettera si rivela incredibilmente autentica ma quali sono i rimpianti che attanagliano il cuore di nao nel futuro avranno forse a che fare con kakeru un ragazzo socievole ma dall'aria triste che si è appena trasferito a tokyo una struggente e unica love story a sfondo fantascientifico che ha commosso e appassionato i lettori del giappone e di tutto il mondo penso che questo questo manga che poi ci hanno dato anche l'anime e anche di e anche di di come d'accordo a pioggia penso sia stato più abbia avuto più successo in giappone ecco rispetto all'italia però è una bella storia mi è piaciuta le altre cose in caso ve le mostrerò nel prossimo video ok spero che questo video ti sia piaciuto che ti abbia fatto compagnia ti abbia rilassato ci vediamo nel prossimo video ok ciao ciao